Ma sì dai, facciamocela sta... sto tag indiscrete domande cinematografiche, facciamolo così non lo cagherà nessuno, non me ne fotte un cazzo, sono 25 domande. Che però ci sono anche delle domande aggiunte da, perché sto parlando le domande di Penny Lane on the Tube, ma sì dai, manca solo quello, a meno che non ci siano anche indiscrete domande culinarie, allora ci può anche stare. Vediamo, anche perché sul cinema io ho già detto che io sono un grande appassionato di cinema, provo anche a farne, ma vediamo cosa c'è, vediamo cosa sono queste domande, non le ho lette, ma il primo non ho mai visto un video relativo, vediamo. Il personaggio cinematografico che vorresti essere? No, queste domande no. Che cazzo ne sono? Intanto sto guardando nei miei diputivi, sono da lontano tipo, è che a me piacciono i personaggi che sono un po' troppo depressive, un po' troppo sclerotici, un po' troppo... quindi non avrebbe neanche senso. Ah no, eccoce l'ho, Maud, di Harold e Maud, un film carinissimo, guardatelo. Sì, perché lei ha questo amore per la vita, sì sì, mi piace. Genere che ami e genere che odi? Allora, a me piace molto cinema d'autore, psychological drama e robe del genere. Genere che odio, film di supereroi, film d'azione, cinema e panettoni, anche i film comici, perché i film comici non fanno ridere molto spesso. Se c'è un film comico che riesce a farmi ridere, allora sì, però in generale, cioè, non c'è niente di più brutto di un film che vuole far ridere e non ce la fa. Quindi, sì. Preferisci in film in lingua originale o doppiati? Allora, il mio spirito di cinefilo dovrebbe rispondere con i film sottotitolati. E infatti è così. Però ogni tanto i doppiati me li guardo pure, perché secondo me c'è troppo snobbismo nei confronti del doppiaggio. A volte il doppiaggio salva la recitazione. Perché se il doppiaggio è fatto bene, dico, tipo per i film asiatici non esiste. Cioè, i film asiatici, anche se hanno un doppiaggio fatto bene in italiano, vanno visti in lingua originale, perché la parlata è troppo diversa. Quindi ci sono anche dei momenti che ti danno fastidio, in cui magari l'attore continua a parlare così, ma la frase doppiata è già finita. Infatti girano i coglioni, no? E quindi dipende. Ci sono dei film che, appunto, il doppiaggio che salva la recitazione, sto pensando a quel tragico film Crossroads con Britney Spears, lì la recitazione non esisteva. Ma il doppiaggio era fatto bene, sembrava quasi che Britney recitasse bene, no? Quindi è approved. L'ultimo film che hai comprato, allora, ce l'ho da, non ho voglia di alzarmi e prenderlo. You the Living, di Roy Anderson, che finalmente è stato ripubblicato in DVD, poiché è un piccione seduto sul ramo che riflette sull'esistenza. Ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia e quindi è bene per le case di produzione, case di distribuzione italiane, giocare un po' con... collucrare. E quindi vanno a recuperare i film precedenti, ma è una cosa che ci piace, perché altrimenti non l'avrei potuto avere. Se hai mandato al cinema da solo, certo, non me ne vergogno a farlo, io lo trovo veramente bello, lo trovo stimolante, anche nei momenti in cui hai le palle girate, no? Andare al cinema da solo ti libera tantissimo. Da solo al cinema ho visto un piccione seduto sul ramo che riflette sull'esistenza e Birdman, di Neil Reed. Una cosa che non è stata fatta da poco, ma è bellissimo. Andare al cinema da solo è bellissimo. È un po' come andare a fare shopping da soli, è liberatorio. Cosa hai pensato del Blu-ray? Ma non ho delle opinioni, perché io ho lettori del Blu-ray, non ce l'ho. Io sono fedele al magico DVD, però, beh, se l'altra definizione è figa, perché no? Poi, vabbè, penso che la questione del Blu-ray non sta adattata a tutti i film. Ci sono dei film in cui l'estetica è predominante, altri film dove l'alta definizione non ha un grande impatto, non è necessaria. E quindi, sì, per certi film ci sta. Che rapporto hai col 3D? Pessimo. Io detesto i film in 3D. Cosa rende un film uno dei tuoi preferiti? Allora, mi deve sapere sconvolgere, ma proprio a livello viscerale. Mi deve far pensare per giorni, non mi deve far dormire quasi, perché ci continuo a pensare. Continuo a entrare dentro quel mondo, no? E deve distruggermi, in sostanza. Preferisci vedere i film da solo e in compagnia? Dipende dal film. Ci sono dei film che vanno visti assolutamente da soli, perché rovinerebbero il mute in compagnia. Ci sono dei film che non riescono a coprire un largo consenso del pubblico, no? Perché dipende un po' dall'approccio personale che si ha del cinema, dei gusti personali. Un film troppo impegnato, secondo me, bisogna vederselo da soli. Anche perché l'accompagnia di qualcun altro, a meno che non sia cinefilo quanto te, se sei un cinefilo e apprezzi quel tipo di cinema, rischia di deconcentrarti. Che magari l'altra persona si rompe i coglioni e te lo fa pesare, no? Oppure guarda il telefono. Ecco, io non sopporto chi durante il film tira fuori il telefono e inizia a messaggiare. Ma scusa, ma non si fa. In compagnia vanno visti i film trash. Cioè, bisogna ridere in compagnia, bisogna divertirsi, no? E quindi, sì. Ultimo film visto, al cinema oppure no? Allora, al cinema, Monteggio Vecch, che è il documentario sulla vita di Carcobain. Visto da solo, l'ultimo corto di Zemiliang, che è un regista preferito, Nono Sleep. Oppure, se si intendono proprio i lunghi, c'è questo film d'autore thriller strano, che è Hotel, di Jessica Hausner. A me è piaciucchiato, nonostante ci siano molte recensioni negative su internet. È interessante, inquietante, carino. Non è niente di eccezionale, ma carino. Un film che fa riflettere? Dipende da cosa si intende per far riflettere. Penso che gran parte dei film vogliano far riflettere. Io direi, uno dei film che mi ha fatto più riflettere, nonostante sia, sembri quasi un film provocatorio, in realtà è un capolavoro, secondo me, va studiato a fondo, che è Bugie, di John Songwu, che è un racconto di sadomasochismo, che ti fa pensare tanto, tanto. Oppure, vive l'amor di It's a me young, che è uno dei miei film preferiti in assoluto. Sicuramente fa riflettere tanto. Un film che fa ridere? Mean Girls. Tac. Abbiamo risolto. Un film che fa piangere? Nobody Knows, di Iroka Zuko Reda. Quello mi ha fatto piangere veramente tanto. Che in italiano è stato reso come nessuno lo sa. Un film orribile? Tanti. Tanti, tanti. Però qui, secondo me, è troppo semplice rispondere con i soliti nomi. Quindi ne scelgo uno che subitamente piace, e a me ha fatto veramente cagare, che è Il Cigno Nero di Dare Naranowski. Veramente inguardabile, orribile. Un film che non hai visto perché ti sei addormentato. No, allora, questo l'ho visto, purtroppo, però mi stava talmente facendo cagare che mi sono addormentato per un pezzo. Perché i film di solito li finisco, questo non ci tenevo. Ma poi un pezzo e mezzo, non è che mi sono addormentato alla fine, che è Twilight. Un film che non hai visto perché stavi facendo le cosacce. Questa domanda non me l'aspettavo. Comunque... Non è che non l'ho visto, però ce l'ho seguito, ma un po' distrattamente, tra le nuvole di Jason Reitman. Il film più lungo che hai visto? Stato Antango, di Belatare, Sette ore e mezzo, o Melancolia, di Lav Diaz, Sette ore e mezzo. Non mi ricordo se gli altri di Lav Diaz che ho visto sono più lunghi o meno lunghi di Melancolia. Comunque sì, quei due matti di Belatare e Lav Diaz. Un film che ta' deluso. Tokyo Tribe di Sion Sono. Mi aspettavo la classica sua cosa esplosiva, divertente. Niente, l'ho trovato carino come idea, cioè il renderle le battaglie tra mafia come gare di freestyle rap è molto interessante. Peccato che la cosa finisca lì, non c'è una grande esplosione, quello che mi aspettavo io, quindi sì, è molto deludente. Un film che sai a memoria. Ferro 3, di Kinky Duke. Non parlano quasi mai, c'è poi pochi dialoghi, però mi ricordo proprio i gesti, tutto. L'avrò visto milioni di volte. Un film che hai visto al cinema perché t'hanno trascinato Twilight. Un film più bello tratto da un libro. La pianista di Aneke, che è molto più bello del libro da cui hai tratto. Idem in the mood for love, di Wong Kar Wai. Il film più datato che hai visto. L'arrivo di un treno alla... L'arrivo di un treno alla stazione della Siotà dei Lumière, ma forse anche prima, perché ci sono anche dei corti sperimentali fatti nel 1880, ecco, anche quelli. Il film più datato che hai visto ho già detto. Miglior colonna sonora. Tony Takitani, di Ryuichi Sakamoto. Per il film Tony Takitani, di Junichikawa, tratto da un racconto omonimo di Ryu Murakami. Miglior saga. Non sono amante delle saghe. Non mi piacciono. Non mi piacciono. Probabilmente... The Kingdom. Ma no, ma è una serie quella The Kingdom di Lars von Trin. Non mi piacciono. Miglior remake. Anche i remake non mi piacciono. Però... Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. No. Non mi viene. Non mi viene. Se mi viene lo dico. Adesso non mi viene. Le domande che hanno aggiunto... Che ha aggiunto Statizia, vediamo. Regista preferito. Tsai Me Liang. Attore preferito. Attore uomo preferito. Tadanobu Asano. Mi piace. Attore giapponese. Inicide killer di Takashimike. Uomo? Sì, lui. Attrice preferita. Nicole Kidman. Charlotte Gainsbourg. Naomi Watts. Mi piace. Miglior film dell'anno scorso. 2014. 2014. In Keller di Yurik Seidl. O anche Addio Langage di Godard. O anche Blind, bello, di Eskil Vokt. Che è un film norvegese. È molto strano. Molto figo. Film che non ti stanchi mai di rivedere. O Ferro 3. Di Kinky Duke. O Vive l'amore di Sami Yang. Oppure i film più commercialotti, più divertenti, più impanti. Il favoloso mondo di Amélie e Harold de Maud. O anche Mean Girls. Disney preferito vecchia scuola. Alice nel paese delle meraviglie. Disney preferito nuova scuola. E io considero nuova scuola dagli anni 90 e poi. Quindi Mulan. Pixar del cuore. Ratatouille. È carinissimo. Consiglio a tre film. Beh, consiglio la mia top 3, diciamo. Vive l'amore di Sami Yang. Vi faccio un culo così se non lo vedete. Doctus, Kino Dontas, Iorkos Lantinos. Che è un film greco fuori di testa. E il settimo continente di Michael Aneke. Michel Aneke, Michael, Mikael, come si pronuncia sto austriaco di merda. Che ha un nome mezzo francese, mezzo nono. Ma Aneke lo amo. È il mio grande cuore. Quindi Aneke. 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 Lo chiamano sempre così a caso. Il settimo continente. Che è come me il suo film più bello. E non lo caga nessuno. Ma non perché sono snobby io. Ma perché veramente lo ritengo il film più bello che ha fatto. Altrimenti la pianista. La pianista. No, no. Meglio più bello Il settimo continente. Guardatelo. Guardatelo. Ciao a tutti.